Gloria, 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 gloria. Sei il vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedele, Grondi sangue innocente sul Cristo, che ti molle martirio pure. Ti saluto, oh luce sangue, e portassi il re del tuo. Gloria, lode, ormai che canta, ogni ritmo e gloria. Tu nascesti fra traccia amorose, una vergine madre o Gesù. Tu moristi fra traccia pietose, una croce che data te tu. Ti saluto, oh luce sangue, e portassi il re del tuo. Gloria, lode, ormai che canta, ogni ritmo e gloria. Tu agiello divino immorato, sull'altar della croce pietà. Tu che togli del mondo il peccato, salva l'uomo che pace. Tu saluto, oh luce sangue, e portassi il re del tuo. Gloria, lode, ormai che canta, ogni ritmo e gloria. Gloria, lode, ormai che canta, ogni ritmo e gloria. Del giudizio del giorno tremendo, sulle nubi del cielo verrà. Piangeranno le gentile del mondo, al trofeo di gloria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È una giornata veramente triste, 657 morti, 4.000 contagi. Ecco Gesù, ricorriamo a Te. Ricorriamo a Te perché Tu possa veramente con Maria, tua madre, aiutarci a superare questo momento brutto della nostra storia, della nostra vita. Ecco, vorrei iniziare questa nostra Via Crucis soprattutto affidando tutta l'Italia alla Crucifisso, tutta l'Europa e tutto il mondo. Crucifisso, Signore Gesù, che ci hai chiamato a far memoria della Tua passione, morte e resurrezione, Noi vogliamo elevare con Te la nostra lote, benedizione e ringraziamento a Dio, Padre Tuo e Padre nostro. Noi riconosciamo che il Padre ha tanto amato il mondo da mandare Te, suo diletto figlio, non perché Tu giudichi e condanni, ma perché l'uomo, accettandoti con fede, avesse la vita nel Tuo nome. Ci hai chiamato a vivere e a testimoniare tra i nostri fratelli questa Tua parola di gioia, di novità e di salvezza. E noi vogliamo dire con Te la nostra piena adessione alla volontà del Padre. Mossi dal Tuo amore infinito, vogliamo metterci a servizio di questo disegno di salvezza. Perciò vogliamo seguire in che, da ricco che eri, ti sei spogliato. Ti sei spogliato di te stesso, assumendo la condizione di servo. E agli uomini, i nostri fratelli impegnati a costruire la nostra città terrena, proponiamo la grata memoria della Tua passione, i più grandi e stupende opere del Divino amore, fonte da cui deriva ogni bene. Accetta, Signore Gesù Crucifisso, la nostra disponibilità e il nostro impegno a questo dono del Tuo amore. Mentre siamo consapevoli di camminare nell'oscurità della fede, fa che noi siamo testimoni autentici e credibili della Tua passione. Manda lo Spirito Santo in aiuto alla nostra debolezza e porta a compimento l'opera che ci hai affidato. Questo ti chiediamo e presentiamo per l'intercessione di Maria Adolorata, nostra Madre di tutti i Santi, che ti proclamano eternamente Santo e Signore, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ame. In questo momento di preghiera accompagniamo Gesù sui passi che Lui stesso ha percorso per arrivare al Calvario, dove sarebbe stato crucifisso. Rinnoviamo il nostro amore seguendolo da vicino. Cerchiamo un profondo silenzio nell'ambiente esterno e dentro le nostre menti, così da non lasciare che pensieri strani possano interromperci da questa via contemplazione. Poniamoci con umiltà e chiediamo la Sua grazia, riconoscendo che non siamo degni di entrare nel Suo cuore per pensare come Lui pensa, per sentire come sente Lui e per vivere come Egli ha fatto il mistero del dolore che ha portato sulla Sua carne per riscattare i peccati dell'umanità. Prima di incamminarci nella sequela di Cristo, poniamo il nostro cuore nelle mani di Dio, Lui che misericordia infinita cancella i nostri peccati. Signore, che a pietro pentito hai offretto il tuo perdono, abbi pietà di noi, Signore e pietà. Cristo, che a tuo fianco squarciato hai effuso l'acqua e il sangue a nostro riscatto, abbi pietà di noi, Cristo e pietà. Signore, che hai voluto essere innazzato sulla croce per attirarci a Te, abbi pietà di noi, Signore e pietà. Preghiamo. Padre, che ci hai amato fino a santificare il tuo direttissimo Figlio, guarda questa tua famiglia pellegrina nel tempo e fa che camminiamo con la Beata Vergine Maria per la via della croce. Giunga alla piena conoscenza di Cristo, compimento di ogni speranza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Chiese loro Pilato, ma allora che farò di Gesù, chiamato Cristo? Tutti risposero, sia crocifisso. Ed egli disse, ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte, sia crocifisso. Allora, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Gesù, per tutta la vita ti sei adoperato per aiutare, per guarire, per liberare. Nonostante tutto, sei stato trattato come il peggiore dei delinquenti. Perdonaci, Gesù. Perdonaci se ancora oggi continuiamo a trattarti così. Ogni volta che un innocente soccomba, ogni volta che un uomo giusto viene condannato, ogni volta che un bisognoso non viene prestato soccorso. Grazie perché tu non mi condanni mai. Grazie perché tu mi ami sempre. Ti offro Gesù la mia sofferenza quando, trattato ingiustamente, mi sento incompreso. Mi perdo per tutte le volte in cui ho giudicato gli altri. Ho parlato male del prossimo. Ho lasciato passare sotto silenzio le ingiustizie a danno dei fratelli. Gesù, concedimi la grazia di essere d'ora in poi completamente tuo. Ecco, cari fratelli, vorrei anche ricordare che oggi è stato pubblicato un decreto della penitenzeria apostolica che si possono applicare le indulgenze soprattutto per gli ammalati del coronavirus, per gli operatori sanitari, per i medici. possiamo applicare questa Via Crucis per il perdono anche di tutte le anime che hanno lasciato questo mondo. Facciamo questo atto d'amore di generosità questa sera. Insieme offriamo la nostra Via Crucis affinché scenda tanta grazia, misericordia e perdono su tutte queste persone. Preghiamo anche per tutti gli ammalati che sono in terapia intensiva, che sono in coma. Ecco Gesù, ti offriamo questa Via Crucis perché con umiltà ecco, vogliamo che questa preghiera, questa sera tu possa accoglierla e donare tanta grazia di salvezza fisica e spirituale per tutti questi nostri fratelli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Ame. Santa Madre di voi fate che ne piacche del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione Gesù prenda la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Allora i soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlato, intrecciarono una corona di spina, gliela posero sul capo e si misero una canna nella mano destra. Poi incinocchiandosi davanti a lui lo deridevano, salvere dei giudei. Sputandogli addosso gli tossero di mano la canna e lo perquetevano sul capo. Dopo averlo deriso lo spogliarono del mantello e gli dimissero le sue veste poi lo condussero via per crocifiggerlo. Gesù, tu hai accettato serenamente con amore la tua croce, abbandonandoti totalmente alla volontà del Padre. Ti sei lasciato condurre come un agnello a macello senza opporre resistenza. Pieno di ferite ed esausto hai preso sulle tue spalle il legno della croce. Mi dispiace di aver tante volte rifiutato la croce. Da oggi mi impegno a cambiare vita. Aiutami a accettare le croci come le hai accettato tu. Perdonami, Gesù, per tutte le volte in cui avrei potuto fare del bene e non l'ho fatto. D'ora in poi farò di tutto per essere vicino a coloro che soffrono. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ame. Ave Maria piena di grazie il Signore con te tu sei benedetto fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Ame. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore Ti saluto o Croce Santa che portasti il Redento lode e gloria o nord ti canta ogni lingua ed ogni cuore testa stazione Gesù cade per la prima volta Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai Redento il mondo eppure Egli si è caricato delle nostre sofferenze si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato percosso da Dio e umiliato Egli è stato trafitto per le nostre anime schiacciato per le nostre iniquità il castigo che ci sa e salvezza si è abbattuto su di Lui per le sue piaghe siamo stati guariti Gesù già sofferente per la crudele flagellazione subita non reggi a carico e in mano della croce e cati dopo i pochi passi hai seguito la strada dell'uomo sofferente e in tutto si è diventato simile a noi tranno nel peccato grazie Gesù perché dopo la tua caduta non hai interrotto il tuo viaggio grazie perché non hai detto al Padre non ne posso più ma ti sei riazzato e hai ripreso il cammino Gesù aiutami affinché non cada qualora non accadesse dammi la forza di riazzarmi quando ripenso alle mie cadute e alle mie mancanze di amore di fede e di speranza posso soltanto ripetere perdonami Gesù tante volte ho gettato la mia croce e non l'ho voluta portare Padre nostro che sei nei cieni sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Ame Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetto fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Ame Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen Santa madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore Quarta stazione Gesù incontra sua madre ti saluto croce santa che portasti il redento lode gloria onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore ti adoriamo ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo Maria Simeone benedisse a Maria e sua madre disse ecco egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di consolazione e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore ecco Maria incontra Gesù sulla via del Calvario sulla via della dolore la madre addolorata anche oggi Maria è triste nella sua dimensione paradisiaca è una tristezza perché Maria sta contemplando la sofferenza dei suoi figli sta contemplando il dolore di tutti noi lei ci dice sempre che non ci abbandona è sempre una madre amorevole ogni sua parola che esce da quel suo cuore puro santo è una parola di speranza una parola di di consolazione è come dire c'è una guerra c'è la battaglia ma voi affidatevi al mio figlio lui ha vinto la morte ha vinto tutte le trame delle tenebre lui vuole portare la luce ecco in questa stazione contempliamo Maria sì nel dolore ma contempliamo anche quella madre che sta condividendo con noi le nostre paure le nostre angosce le nostre inquietudini sempre lei apre quel suo manto e ci dice venitevi qui a rifugiare sarete assicuro nessuno vi più vi farà del male ha un cuore trafitto da una spada ma quella spada non ha fatto cessare l'amore per noi anzi quella spada l'ha fatta crescere ancora di più quell'amore per noi ecco Maria questa sera noi ti chiediamo di chiedere a Gesù di alitare il suo spirito sull'Italia di liberarci da questo morbo invisibile e maligno di darci una tregua tu sei mamma e come ogni mamma conosci le preoccupazioni di tante mamme che che temono soprattutto per i loro figli per i loro cari aiutaci Maria aiutaci per i loro cari per i loro cari per i loro cari perdonaci oh Maria se anche noi siamo stato causa di questa spada che ti ha fatto soffrire chiediamo a Gesù di esaudire la preghiera di sua madre che sicuramente questa sera starà starà intercedendo per noi Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in ceno così dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi ne rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male ame Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetto fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Ame sia gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Ame Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano imprese nel mio cuore Quinta stazione Gesù viene aiutato dal Cireneo Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce è redento il mondo Mentre uscivano incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce Gesù disse ai suoi discepoli se qualcuno vuole venire dietro me rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua Gesù mio coloro che ti hanno tormentato e torturato e che avevano il compito di crocifiggerti hanno cercato un uomo che ti aiutasse a portare per un po' la croce temendo che tu morissi prima della crocifissione così hanno costretto Simone di Cirene di aiutarti Simone come hai accolto questa imposizione ti sarai certamente chiesto ma perché io devo perché proprio io devo portare la tua croce ti capisco se hai fatto resistenza e brontolato ma ti ringrazio perché hai aiutato Gesù fa Gesù che io ti riconosca in ogni persona che soffre aiutami a capire che posso essere più fortunato di Simone e che ti posso aiutare ogni giorno Gesù ti ringrazio per coloro che ho potuto aiutare nel tuo nome e ti prego di aiutare tutti coloro che non ho voluto o potuto aiutare preghiamo per tutti i cilenei di questi giorni gli ammala i medici i volontari gli infermieri Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male ame adeo maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame sia gloria al padre al figlio allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli ame santa madre di voi fate che le piaghe del signore siano impresse nel mio cuore sesta stazione la veronica asciuca il volto di gesù ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo non apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi non splendore per poterci piacere disprezzato e retto dagli uomini uomo dei dolori che ben conosce il patire come uno davanti al quale si copre la faccia era disprezzato e non avevamo alcuna stima gesù ti viene incontro una donna che mossa dalla compassione ha avuto il coraggio di affrontare la folla per detergere il tuo volto sfigurato e la veronica e tu non tralasci di ringraziarla lasciando impresso il tuo volto sul velo in quella folla che inveiva contro di te noi tutti avevamo dimenticato che tu avevi fatto solo del bene che tante volte avevi asciugate lacrime di amarezza e di afflizione lacrime di dolore e di sofferenza ti prego signore per gli ammalati e per coloro che soffrono affinché sappiano ricevere con riconoscenza l'aiuto e l'amore di chi si ti prodiga per loro fa che gli ammalati siano pazienti aiuta chi presta assistenza a vedere te in ogni bisognoso ti prego per coloro che si trovano allo stremo delle forze a causa delle lunghe malattie dei loro cari Padre nostro che sei nei cieli sia santificato in tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetto fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen sia gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen o lì o lì di Dio Dio, Signore, sarò il più grande dell'arrivo. Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nel tuo affetto cancella il mio peccato e l'amami da ogni mia colta, purificami da ogni mio amore. Purificami, oh Dio, Signore, sarò il più grande dell'arrivo. Il mio peccato, io lo riconosco, il mio errore mi è sempre in innanzi. Contro te, contro te sono peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io lo so a te. Purificami, oh Dio, Signore, sarò il più grande dell'arrivo. Così sei giusto nel tuo parlare, esistido nel tuo giudicare. Ecco, malvagio, sull'annato, il cautore mi ha concepito, mia madre. Purificami, oh Dio, Signore, sarò il più grande dell'arrivo. Purificami, oh Dio, Signore, sarò il più grande dell'arrivo. Ecco, ti piace e ferità dell'infinito, e nel profondo mi insegni sapienza. Semmi purifici, oh Dio, Signore, sono più bianco della nieve. Settima stazione, Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa crociera è dentro il mondo. Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra. Ho ostruito i miei sentieri. Ho spezzato i miei denti con la ghiaia, mi ha stesso nella polvere. Gesù, questa seconda caduta è stata più grave e più dolorosa della prima. Ma tu, pur così sofferente, hai ripreso il tuo cammino. Grazie, Gesù, per la tua caduta e per il coraggio che hai avuto nel riazzarti. Perdona le mie cadute e perdona i miei propositi così poco durevoli. Troppo facilmente dimentico la giusta direzione quando mi trovo nelle prove e nelle difficoltà e persevero nelle cattive abitudini. Gesù, aiutami a riazzarmi tutte le volte che cado. Ti prego per tutti coloro che sono caduti, perdendo la fiducia in se stesse nella tua misericordia. Aiutali a riazzarsi. Fa che in ogni cuore sgorga una nuova forza e una rinnovata volontà di riprendere con gioia il cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in ceno così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e metti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indura in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù incontra alcune donne, piangenti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Gesù voltandosi verso di loro disse, Figlia di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli. Ecco verranno giorni nei quali si dirà, Beate le stere dei grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire monti, cadete su di noi, alle colline copriteci, perché se si tratta così legno verde, chi avverrà del legno secco? Gesù mite ed umile di cuore, hai visto le donne che piangevano e nonostante la tua sofferenza hai trovato la forza per consolarle e invitarle alla conversione. Insieme a loro invito ognuno di noi alla conversione del cuore. Gesù perdonami per tutte le volte in cui ho cercato conforto lontano da te. Troppe volte per amor proprio non ho dato ascolto alla verità, ho ingannato me stesso e gli altri. perdonami per ogni paura da cui mi sono lasciato intimorire. Perdona per tutte le volte in cui ti ho cercato soluzioni facili e di compromesso con questo mondo dimenticando il perdono. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane, quelidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ame. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. E' bene per l'uomo portare un gioco nella sua giovinezza. Sieda costui solitario e resti silenzioso, perché egli glielo hanno impedito. Ponga nella polvere la bocca, forse c'è ancora speranza. Porga che lo percuota la sua guancia, si sazia di umiliazione, poiché il Signore non mi respinge per sempre. Ma se affligge avrà anche pietà, secondo il suo grande amore. Gesù, schiacciato dal peso della croce, cadi per la terza volta. Questa caduta è per tutti i peccatori che non vogliono convertirsi. Ti voglio offrire i miei sacrifici e le mie sofferenze per la conversione. Pensiamo, proprio in questo momento, di offrire a Gesù una preghiera per le nostre conversioni e per quelle persone che ci sono care e che sono lontano da Dio. Ti prego Gesù per le famiglie oppresse dal peccato. Dalle liti tra i genitori, dai disaccordi con i figli, dalle infedeltà, dalle bestemmie, dalle ubriachezze, dalle soppressioni della vita di innocenti nel seno materno. Gesù, aiutali a incamminarsi su nuove strade. Ti prego anche per i giovani che sono caduti nella droga, nell'acqua o altre dipendenze. La vita più dolorosa, ti prego per ognuno di loro, perché si rivolgono a te con fiducia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indura in tentazione, ma liberaci da male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù viene spogliato. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giunto al luogo detto Golgotha, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato e con fiere. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue veste, tirandole a sorte. Poi, seduto, gli facevano la guardia. Gesù, hai sopportato anche questa umiliazione e ti hanno spogliato lasciandoti senza vestito, nudo. Insegnami, Gesù, a rispettare il mio corpo. Perdonami per i peccati di impurità. Ti prego, Gesù, anche per loro che, abusando del proprio corpo, si sono ammalati nello Spirito e nel corpo stesso. Maria, proteggi i fanciulli e le nuove generazioni. Dà ogni atteggiamento equivoco contagioso nei confronti del loro corpo e del loro Spirito. Padre nostro, che sei nei ceni, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indura in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Ame. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù inchiodato alla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Quelli che passavano di lì lo insultavano scotendo il capo, dicendo, Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce. Così che anche i capi dei sacerdoti con gli scrivi agli anziani, facendosi beffe di Lui, dicevano, Ha salvato altri, non puoi salvare te stesso. Egli è re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in Lui. Gesù anche oggi sta vivendo l'esperienza dell'essere inchiodato. Inchiodato dal nostro egoismo, che nonostante siamo nella prova, siamo ancora nella superficialità. E questo fa sì che i chiodi diventano sempre più forti e doloranti. Cerchiamo di riparare, cerchiamo di alleviare questo dolore che sta infliggendo i chiodi a Gesù. Ma devono soltanto il nostro amore schiodarlo, solo il nostro saper vincere i nostri egoismi, le nostre paure, i nostri personalismi. Apriamo il nostro cuore a Gesù. Lasciamo che Lui, l'amore, è in croce ma senza chiodi. E così l'amore vince sulla morte e sul peccato e sulle tenebre. E se noi iniziamo a vivere questo spirito di amore, di conversione, partire dalle nostre piccole storie, cominciamo a diffondere questo virus contagioso che è l'amore, che guarisce, che libera e che salva. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato in tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi ne rimettiamo ai nostri debitoni. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore dopo tre ore di agonia. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo, Gesù. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre Gesù gridò a gran voce. Eloi, Eloi. Lema sabachthan, che significa Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce e mise lo Spirito. Il sole si oscurò e il velo del Tempio si squarciò a metà. La terra tremò. Questo è un sacro momento di contemplazione. Questo è un momento di adorazione. Poniamoci di fronte al corpo del nostro Redentore. Padre, senza vita, pestato, torturato, appeso. Che paraga il prezzo delle nostre malvagità per i miei peccati. Ho peccato, Signore. Abbi misericordia di me. Sono un peccatore. Gesù muore per me. Gesù mi offre la misericordia del Padre. Gesù paga per tutto ciò per cui avevo dovuto pagare io. E cosa faccio io per Lui? Grazie, Gesù, perché in croci ci insegna la pace e il perdono. Nessuno di noi potrà mai comprendere il tuo infinito amore. Ti prego, insieme a Maria Santissima, Regina della Pace, di concedere ai nostri cuori, al mondo intero, la tua pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato in tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Ame. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione. Gesù deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. I centurioni e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano. Davvero costui era figlio di Dio. Vi erano anche molte donne che osservavano da lontano e avevano seguito Gesù dalla Galilea per seguirlo. Grazie, Gesù, per aver dato la vita per noi. Perdonaci per tutte quelle volte in cui la croce non ci parlava più del tuo amore. Grazie, Maria, perché non ti sei lasciata spaventare dalla sofferenza e non sei fuggita. Sotto la croce hai sopportato tutto e adesso, prima della sepoltura, accogli il corpo del tuo figlio sul tuo seno materno. Al momento dell'annunciazione hai accolto Gesù nel tuo grembo. Grazie a te il figlio di Dio, il nostro Salvatore, si è fatto uomo. Adesso lo hanno precifisso e ucciso, ma tu sei lì, ai piedi della croce, per accogliere ancora una volta tra le tue braccia. Aiutami a comprendere quanto amore lo hai ricevuto appena deposto dalla croce e hai offerto a Padre per la nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indura in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Lode e gloria, onor, ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Quattordicesima stazione. Gesù viene deposto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce è Redentore il mondo. Giuseppe prese il colpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si è fatto scavare nella roccia. Rotolato una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'era Maria di Magdala e l'altra Maria. Mentre mi soffermo sul tuo sepolcro, Gesù rifletto sulla mia vita e sul momento in cui mi chiamerai a te. Non conosco né il giorno né l'ora. Liberami dalla paura, dalla malattia e dalla morte. Gesù ti prego per quelli che muoiono in condizioni disumani, abbandonati, respinti, soli. Per quelli che muoiono a causa di incidenti sulle strade e nei posti di lavoro. Ti prego in particolar modo per coloro che uccidono e per le loro vittime. Ti prego per le mamme, per i papà e per i medici che praticano l'aborto. Ti prego di accogliere nel tuo regno tutti i bambini che hanno subito queste triste sorte. Non hanno sepolcro nel ricordo ma il tuo amore mi segna per sempre nel libro della vita. Padre nostro che sei nei ceni, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ame. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quindicesima stazione. Gesù risorge da morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce è redento il mondo. L'angelo disse alle donne, voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatto, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Sei risorto, Gesù, e ci doni una nuova speranza. Il potere della morte e del peccato sono stato vinti dalla forza dell'amore, dalla tua resurrezione. L'odio e il male sono stati sconfitti. Ecco il tuo regno. Gesù, un regno di resurrezione, di grazia, di gioia e di pace. Gesù risorto, fa che la tua forte luce penetri in noi e disperdi ogni tenebre nel nostro cuore, nel nostro cuore delle famiglie, della Chiesa e del mondo. Che in ogni luogo si intoni un canto nuovo di gioia e di salvezza. Fa che ognuno possa sclamare. Alleluia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane, queridiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indura in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Preghiamo. O Gesù che ci ha riscattato morendo per amore sulla croce, concedi i meriti delle tue sante piaghe della tua morte, e fa che questi meriti possano ottenere la grazia che ti chiediamo in onore della tua misericordia. Te ne preghiamo colorosamente, chiedendo di riconsiderare anche il dolore e le preghiere della tua Santa Madre ai piedi della croce. Per Cristo nostro Signore. Amen. Affidiamoci a Gesù. Gesù, pensaci tu. 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 Affidiamoci a Maria. Madre Maria, pensaci tu. 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 Preghiamo per tutti i defunti del coronavirus. L'eterno riposo, donna loro Signore, salvaggia. Dona loro Signore, sprendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro Signore, sprende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro Signore, sprende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro Signore, sprende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro Signore, sprende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro Signore, sprende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro Signore, sprende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gesù, pensaci tu. 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 Mamma Maria, pensaci tu. Gesù, pensaci tu. Gesù, pensaci tu. Gesù, pensaci tu. vita dulce e do, espes nostra salve, a te clamamus, e su les fini dieve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale, ia ego, avocata nostra, in los tuos misericordes oculos, ad nos converte, et jesum benedictum fruttum ventris tui, nobis, posto che sinium ostende, o clevas, virgo Maria. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, vi benedica a Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nella veglia salvaci, oh Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Cari fratelli, vi auguro una santa notte e affidiamoci ancora una volta alla misericordia di Dio. Buonanotte.